O Dio, vieni a salvare, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona. Parlava al cuore della gente, sfidando il malaffare con la dolcezza delle parole e consumando le ginocchia nella preghiera. Gaetano Enrico, santo dal 12 ottobre 2008, nato, cresciuto e morto a Secondigliano. Il suo ultimo respiro, la mattina del 29 ottobre 1860, in quel santuario di Via Dante che lui stesso aveva fondato quasi 30 anni prima, dove, tra il museo e la cappella, ha lasciato in eredità la forza della sua fede, che i masmedia trascurano. La Casa dei Sacri Cuori, con i suoi missionari, non fa notizia, il sangue sull'asfalto sì, in una terra marchiata come suolo di camorra. La Casa dei Sacri Cuori, con i suoi missionari, non fa notizia, il sangue sull'asfalto sì, in una terra marchiata come suolo di camorra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.